Una vacanza in Sicilia all'inizio della primavera, quando l'esplosione della natura regala paesaggi dai mille colori e profumi. Il concorso Tess, Selfie & Win Sicily ripropone anche quest'anno ai vincitori un tour che vivrà il suo momento più intenso proprio durante la Settimana Santa di Caltanissetta, conducendoli per mano in atmosfere cariche di fascino e partecipazione alla scoperta di riti antiche e unici come la real mestranza, lo storico corteo delle corporazioni appartenenti alle antiche arti e mestieri della città, la sfilata delle variciae e delle piccole riproduzioni dei gruppi statuari che anima le vie del centro cittadino la sera del mercoledì santo, la famosa processione delle varis, 16 splendidi gruppi statuari riproducenti episodi della passione morte di Gesù o la commovente processione del Cristo Nero accompagnata dal canto dolente delle lamentanze intonate dai fogli amari. Poi, spostandosi di poco, le atmosfere della Pasqua siciliana regalano altre emozioni, come i 2.500 appartenenti alle confraternite di Enna che sfidano incappucciati lungo le silenziose vie del capoluogo e la suggestiva e antichissima processione del Signore delle Fasce di Pietra Persia. Ma le emozioni per i vincitori del concorso, che durante il soggiorno alloggeranno in strutture ricettive di Caltanissetta, proseguiranno con un tuffo nella storia e nella natura dell'isola, poiché avranno modo di conoscere altre meraviglie dell'immenso patrimonio naturale, storico e artistico siciliano, come la magnifica Valle dei Templi di Agrigento, immerse in un paesaggio mozzafiato, la villa del casale di Piazza Armerina, con i suoi splendidi mosaici, o il candido sperone di roccia della Scala dei Turchi, sospeso tra cielo e mare. Sarà ancora una volta un'esperienza appassionante per i vincitori del concorso Test Self & Win Sicily, una vacanza che come in un bel sogno non vorrà farsi dimenticare.